Ok ragazzi, benvenuti sul canale PG Passione Games, un'altra partitina a Warzone, vediamo un attimo se funziona tutto come dovrebbe funzionare Siamo con due personaggi, vediamo un po' lui, lui ce l'ha la cuffia, no! Sì, lui, attiva, attivata, no disattivata, due col computer, vediamo un attimino cosa sta succedendo Ok, ora, Rodon, mi senti? Io li sento Ok, vediamo un attimino Dai Andrea Ci siete? Oh, mi sentite? No, ragazzi, sembra di essere lì, sembra di essere lì Oh, porca miseria Oh, cos'è? No, altrimenti forte che non ce l'ho capito più nulla Dove sono? Allora 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 Ehi Ehi Come? Non ho capito, non ho capito No, funziona, funziona Questa piccola chat è troppo forte ragazzi, non è una cosa... ma chi dove sta? Chi? Dov'è qui? Allora Ci tirano le bombe, noi andiamo addosso Sto mitra Dele discesa, andiamo, andiamo, dove siamo? Prepariamoci, prepariamoci Prepariamoci Wow Ok, ragazzi, è una cosa... Che è una mirata melodiosa Ho una mirata Attenzione che qui C'è qualcuno No Non è possibile Non è possibile Il cecchino mi ha buttato giù Mi ha sfatto il cecchino Rientriamo, rientriamo E il cecchino mi ha sfatto Ragazzi, c'è gente, aspetta Qui ci hanno bloccato Mi sentite? Mi sentite? O non mi sentite? Allora, punto, punto Qui c'è, a dire, cos'è? Gas Uh, guarda lì Gas, via 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 Mamma mia Torniamolo dietro Sono morto E eccomi col faccione E eccomi Ho preso Ho il primo uccisione Da quando gioco a Warzone Sì, sì Prendiamo il fucile C'è qualcosa? Mi dispiace Due Io ne ho mettete uno solo Stiamo avanti Stiamo avanti No, mi ha schiacciato Non ci credo Non ci credo Non ci credo No Vabbè ragazzi Facciamo l'ultimo tiro Poi Lasciamo No L'ho sbagliato Ho sbagliato Nell'acqua anche no Ragazzi È impossibile È impossibile Non vederle Ho ucciso Questa c'è È la seconda volta Che mi ammazza il cecchino Va via C'è il ritorno Delle cuffie Che è troppo alto Troppo alto Ok Via Vai Niente C'è una mira Che è veramente pesca No ragazzi È così però Non è possibile C'è questo qui Che è la caccia Ma punta solo me Boom Sfatto Ok Direi Diciamo In questo video Potremmo momentaneamente Sospenderlo qui E E niente Ci vediamo appunto Nel prossimo episodio Iscrivetevi al canale Se vi è piaciuto il video Mettete un like E sicuramente Andremo Perso Una Al prossimo video Ciao Mettetevi al canale Mettete un po' di